La cosa singolare è che vedo su qualche profilo che qualcuno potessa con me perché ho chiuso l'acqua. L'acqua è io soltanto fatto da trasmettitore di una richiesta fatta richiesta, di un'imposizione come giusto che sia, in un momento in cui si fanno lavori che riguardano anche la città di Benevento, perché i lavori sono stati fatti perché la condotta dove dovrà passare successivamente ferrovie per andare più velocemente a Roma esige questo minimo sacrificio. Quindi ho disposto soltanto l'ordinanza. Ho fatto una cosa diversa richiedendo alla Regione di anticipare al giovedì per un semplice motivo, nonostante si siano visti attrezzati abbastanza i commercianti di Benevento, gli artigiani e quanti altri, di anticipare al giovedì. Per quale ragione? Perché in modo tale che finendo il sabato, sabato sera recuperabile, domenica anche, proprio anticipo, forse, forse, non verrà molte sorprese, può darsi che si chiude la partita, mi ha comunicato il consigliere Palladino che appartiene a Leica, e che probabilmente possiamo anche chiudere stasera, quindi il ritorno dell'acqua arriverà entro stasera, quindi il ritorno dell'acqua, però con grano salis, qui non c'è stato, ieri alle 4, 4 e mezza, 5 si è iniziato, le scuole. Io ho chiuso perché devo dire la verità, io ho avuto un po' un litigio amichevole con i miei dirigenti del comune, che io ritenevo dall'inizio che bisognasse chiudere tutto, perché era giusto così. Se voi mi hanno spiegato, ma no, come, eccetera. Una volta tanto che non faccio i testa mia, stavo sbagliando. Ho incontrato per strada, ieri, camminando, delle ragazze. Ragazze hanno andato a scuola e detto, ma come non state a scuola? Siamo usciti e domani fate festa. No, perché lei ha chiuso soltanto una parte, non noi. Però mi ha detto una ragazza, sì, io abito alle parti sue, là non c'è l'acqua. Io come faccio? Mi devo lavare, non lavare la mia famiglia, eccetera. E quindi dopo di che devo andare a scuola? Allora ritenevo giusta e sapiente la saggezza dei giovani, voi siete meno giovani, la saggezza dei giovani rispetto a noi anziani, in questo caso è stato migliore di quanto abbia partorito il gruppo dirgetemi a fianco, diciamo così.